Controlli della polizia nel quartiere Fondo Gesù di Crotone con oltre 50 agenti impegnati che hanno portato all'arresto di un giovane di 19 anni con l'accusa di detenzione illegale e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegali di armi e munizione e ricettazione e alla denuncia di altre due persone. In particolare i controlli hanno interessato alcune abitazioni nella disponibilità di persone con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati oltre 5 kg di marijuana, 140 g di cocaina, due bilancini elettronici, una pistola semi-automatica calibro 22 con matricola Brasa, due revolver risultati rubati, una carabina semi-automatica ed un silenziatore. Alcuni indagati hanno tentato di disfarsi lanciando dalle finestre dello stupefacente che avevano nascosto nelle loro abitazioni. La droga è stata recuperata dai poliziotti.